Chiara Ferragni, nota influencer italiana, ha recentemente pubblicato un post su Instagram in cui ha riflettuto sul suo ultimo anno. Senza mai nominarlo direttamente, ha lasciato intendere che il suo ex marito Fedez la delusa profondamente. Ferragni ha sottolineato di aver imparato a distinguere chi la ama veramente da chi invece la abbandona nei momenti difficili. Ha anche dichiarato di percepire la sua vita come più autentica rispetto agli anni passati, un chiaro riferimento al suo matrimonio fallito. La giovane imprenditrice digitale ha condiviso queste riflessioni in occasione del primo anniversario trascorso nella sua nuova casa a Milano. Ha parlato di un anno difficile, ma che le ha regalato la libertà e le ha insegnato l'importanza dell'amore vero e del benessere emotivo. Ferragni ha evidenziato che la sua casa è diventata il rifugio della sua nuova famiglia e che è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi. La Ferragni ha ammesso che gli ultimi 12 mesi sono stati i più difficili della sua vita, segnati dallo scandalo dei pandori e dalla fine del suo matrimonio. Ha dichiarato di essere rinata grazie alla sua nuova famiglia e di aver imparato a fare spazio all'amore vero. La sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, anche egli reduce da un matrimonio fallito, ha attirato l'attenzione dei media italiani. Nonostante non abbiano ancora partecipato a eventi ufficiali insieme, sembra che la relazione sia solida e che entrambi abbiano intenzione di fare sul serio. Chiara Ferragni ha concluso il suo post con un messaggio di speranza per il futuro. Siete mai solo libertà? È solo l'inizio di una nuova vita.